Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale. Apriamo con le contestazioni oggi a Lampedusa verso parte delle istituzioni, in particolare verso il Presidente della Commissione Europea Barroso e il Premier Enrico Letta, in visita sull'isola. Barroso e Alfano, l'agente comune ha accusato l'autorità presente lamentandosi delle già notte d'antempienza riguardo il tragico evento. I Lampedusa hanno urlato vergogna, vergogna, nei confronti dei rappresentanti istituzionali, prima che queste entrassero nell'angar dove c'erano le bare. Andate al centro di accoglienza, andate a vedere come vive questa gente. Assassini hanno poi giunto i manifestanti. La protesta ha seguito passo passo tutte le tappe della visita degli ospiti politici. I sommutatori intanto hanno recuperato sette vittime, con il bilancio che è salito così a 296. Ne discuteremo, così il Premier ha risposto che gli chiedeva se il governo abolirà il reato di immigrazione clandestina dopo le parole di martedì del Capo dello Stato. Affronteremo il tema, lo affronteremo da posizioni diverse, lo dico da capo di un governo di grande coalizione. Ci sono posizioni diverse, troveremo un'intesa, ha sottolineato ancora Letta, parlando della discussione sulla legge Bossi-Fini. E riguardo all'incriminazione dei superstiti per il medesimo reato di clandestinità, Letta si è detto sdegnato. Quando ho sentito questa notizia da capo del governo, ho provato un senso di profondissima vergogna. Le leggi vanno applicate, però quello che accade qui è una vicenda di grandissimo dramma umano. Barroso ha confermato la vicinanza dell'Unione Europea a Lampedusa e all'Italia. Passiamo alla pagina politica e polemica sulla situazione carceraria in Italia, dopo le dichiarazioni di Giorgio Napolitano che ipotizza l'amnistia e la replica del Movimento 5 Stelle. È un dovere urgente fare cessare il sovraffollamento nelle carceri. Necessari e immediati rimedi straordinari come depenalizzazione e domiciliari, ma non escluso che si debbano valutare anche amnistia e indulto. È bastato questo messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per scatenare la bagarre politica con l'accusa del Movimento 5 Stelle di voler salvare Berlusconi. Dal blog Beppe Grillo replica le parole di Napolitano aprendo un forum che invita ad esprimere il pensiero in maniera corretta, evitando il vilipendio al capo dello Stato. Ma fortunatamente, oltre alla bagarre politica, nel nostro paese esistono associazioni senza scopo di lucro in grado di creare un'alternativa al carcere che cercano di venire incontro alle esigenze dei detenuti. Creare un progetto individualizzato che possa aiutare il detenuto che al momento è in carcere ad avere l'opportunità di uscire. Uscire cosa significa? Non uscire e liberamente andarsene in giro per la città, no. Vuol dire avere un sostegno, una rete di professionisti intorno che possano creare l'opportunità diversa al carcere. Cioè vivere l'ultima parte della pena fuori dalle mura carcerarie, non però allo sbando, in balia degli eventi e quindi con la possibilità di essere recidivi, ma seguiti costantemente da personale specializzato in questa cosa. Associazioni come la Fenice e Ollus offrono un supporto ai detenuti affinché possano beneficiare delle misure alternative. Il magistrato per dare praticamente il via libera alla misura alternativa, cioè significa appunto alla pena fuori dal carcere, deve avere la certezza che questo individuo sia seguito. E noi serviamo proprio a questo, creare il progetto che possa reinserire il detenuto gradualmente nella società che gli appartiene. È importante però fare in modo che un detenuto una volta fuori non torni a delinquere ed è per questo fondamentale investire nella pena educativa. È importante che la società capisca che interventi come i nostri non sono tanto a favore del detenuto, ma sono a favore della società, perché un detenuto trattato in una determinata maniera da professionisti è comunque un detenuto che ha una recidiva del 4,5%, mentre un detenuto che esce dal carcere senza nessun tipo di trattamento ha la recidiva del 70% circa. Quindi è importante che si capisca che bisogna investire in persone come noi, in associazioni come le nostre e credere nel fatto che queste persone possono essere aiutate. Non fatalità ma conseguenze di colpe umane. Così sempre il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ricorda i 50 anni dopo la tragedia del Vaillant. Per ricordare quel 9 ottobre 1963, Assemblea Anci a Longarone, comune tra i più colpiti dalla tragedia, per discutere delle situazioni di sicurezza dei comuni italiani. A 50 anni dalla tragedia del Vaillant, molti sono ancora i dubbi per la sicurezza territoriale nel nostro paese. Il Parlamento italiano ha scelto la data del 9 ottobre come giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Riaffermando così che è un dovere fondamentale delle istituzioni pubbliche di operare in un'azione di vigilanza e di controllo. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel ricordare la tragedia che costò la vita a 1910 persone, denuncia l'evento non come una tragica, inevitabile fatalità, ma una drammatica conseguenza di precise colpi umane. L'Assemblea Anci Veneto a Longarone, uno dei comuni più colpiti dal disastro del 9 ottobre 1963, è stata l'occasione per ricordare il disastro, ma anche per chiedere al Governo di spingere per rompere il patto di stabilità o almeno per lavorare sulla sicurezza del territorio e dei comuni. Ho voluto essere particolarmente incisivi. Il nuovo messaggio è che i sindaci debbono poter fare tutte le manutenzioni che il territorio esige. Senza manutenzione, ad un certo punto, il Vaillant si ripeterà. Mi sembra che sostanzialmente il Presidente nazionale abbia dato alcune assicurazioni rispetto all'autonomia e soprattutto all'autonomia fiscale. I sindaci nel 2014, rispetto alle aliquote, tanto IRPEF quanto IMU e poi della futura TARES, avranno una forte autonomia, quindi un confronto con l'area di Governo per prendere delle decisioni insieme e non più imposte. Stimoni alla vicinanza anche di tutte le comunità e quindi dei miei colleghi sindaci a questa tragedia. Penso che sia ampiamente significativo e quindi ringrazio per la loro sensibilità. È stata anche l'occasione per affrontare poi alcuni temi importanti per i quali noi sindaci ci stiamo adoperando e battagliando da tantissimo tempo e mi auguro veramente che si possano trovare in tempi rapidi delle soluzioni perché non siamo più nelle condizioni di gestire con sufficiente serenità e soprattutto rispettando quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini. E sull'isola del Giglio è recuperato un altro corpo che potrebbe essere quello di Russell Rebello. Si aspetta però l'esame del DNA. Noi abbiamo raggiunto al telefono il fratello, Kevin. Non ho ancora dei confermi. Come l'altra volta abbiamo avuto una notizia che non era proprio quello. Allora questa volta volevo essere proprio sicuro, sicuro, prima di dare qualche commento, capito? perché un'altra volta abbiamo lasciato tantissimi commenti poi il risultato, sappiamo tutti, che non era quello che è. Dici troppe volte sono rimasto male, insomma, dici? Eh, scusa, hai capito? Cioè, non credo che è un gioco questo, no? Cioè, allora finché non ho tutte le conferme, non mi confermano proprio ufficialmente, comunicazione a me al telefono, non tramite la media, televisione e stampa, io non commento nulla. Sì, sì, quindi qui a Grosseto è stato autorizzato il DNA, quindi si procederà a quello, insomma? Sì, 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 appena tirano fuori il corpo, tutto il resto, non so quanto tempo passerà, il test DNA a Grosseto e poi speriamo proprio bene. Ecco, pare sia il ponte 3, ecco, tu avevi sempre detto ponte 4, quindi più sotto, vicino alla sala macchine? Sì, ponte 3, ponte 4, ponte 5, sono passati 20 mesi, io sinceramente a quello che potevo dare come informazione ho detto ponte 3, ponte 4, cioè ponte 3, ponte 4, ponte 20, caro mio, 20 mesi le cose si spostano, si sono spostati, allora, purtroppo la situazione è questa, non è che sia rimasto fermo lì, cioè, stava iniziando a perdere solo, ovviamente, allora non ti posso nemmeno dire come è arrivato il ponte 3. Ora passiamo agli esteri, Stati Uniti, Obama ha nominato Janet Yellen come prima donna alla guida del Fed, intanto lo shutdown minaccia gli Stati Uniti, il default potrebbe essere una bomba nucleare. La domanda all'era è stata rivolta pochi giorni fa, le banche centrali hanno bisogno di più donne ai loro vertici? La sua risposta fu netta e profetica, aumenteranno, commentò, ed era ora. Parliamo di Janet Yellen, numero 2 della Fed, ed oggi chiamata da Barack Obama a guidare la banca centrale americana per il dopo Bernanke, che da otto anni ne è stato al timone. Janet Yellen avrà pieni poteri a partire da gennaio, ma già si possono intuire le sue politiche. Moglie del premio Nobel 2001 per l'economia, George Akerlof, la Yellen è una democratica nominata per la prima volta nel bordo a Bill Clinton. Ritiene che la banca centrale debba fare gli interessi dei lavoratori, sostenendo il pieno impiego, più di quanto debba stroncare l'inflazione. Da questa posizione, la sua preziosa alleanza con Bernanke nella sostenere la prosecuzione della politica monetaria espansiva attraverso acquisti mensili di 85 miliardi di dollari di titoli pubblici. Manovre che servono a immettere liquidità e a tenere bassi i tassi di interesse. La Yellen, in questa fase, contrastò con vigore i falchi della Fed inclini a interrompere gli acquisti di titoli con conseguente rialzo dei tassi. E avrà di certo un ruolo nel dibattito sull'aumento del tetto del debito per scongiurare quello shutdown che Barack Obama definisce una bomba nucleare. E ora andiamo in Giappone perché a Fukushima si è verificata una nuova fuga radioattiva. Sei sarebbero i tecnici contaminati. L'allarme in radiazioni non termina mai. Non sarà forse come quello catastrofico rimbalzato sui social network qualche settimana fa, ma che la situazione a Fukushima sia ancora critica è fuori di dubbio. Si registrano infatti una nuova fuga radioattiva e sei tecnici contaminati dalla stessa. Lo fa sapere Tepco, gestore dell'impianto, in un comunicato che parla di un errore umano da parte di un operaio che avrebbe scollegato erroneamente un tubo di desalinizzazione dell'acqua impiegata per il raffreddamento dei reattori danneggiati della centrale. L'errore avrebbe dunque causato la fuoriuscita di diverse tonnellate di acqua che tuttavia non sarebbe stata sversata all'esterno dell'impianto, scongiurando quindi conseguenze peggiori. La notizia è stata lanciata dalla TV pubblica giapponese. E questa è l'ultima notizia e il nostro telegiornale finisce qui. Io vi ringrazio per la cortesia attenzione. Arrivederci.